Ciao carissimi, più avanti va questa inutile, terribile e dannosa guerra in Ucraina, più io vedo le immagini che arrivano dal fronte, più ascolto vari analisti, pochissimi seri e tantissime persone che non capiscono un accidente dell'ambiente militare, della tattica, che improvvisa nel commentare, nel rilasciare la propria opinione sulle questioni nei quali non capisce niente, più io comprendo che per il sistema ucraino, per il governo di Kiev, diventa sempre più complicato di gestire questa guerra, molto probabile che il personale esperto militare ucraino, ormai all'interno dell'esercito ucraino e in totale minoranza, emergono sempre di più i video dai quali si evince che i soldati ucraini che combattono soprattutto nelle ultime fasi della guerra, negli ultimi mesi, a partire dalla sconfitta dell'esercito ucraino in Bakhmut, in quella direzione. Dopo quella sconfitta, sempre più militari ucraini si mostrano impreparati anche per semplici operazioni, anche durante alcuni aspetti della preparazione, dei preparativi della tattica e della strategia della guerra. Io ultimamente ho visto alcuni video che mi hanno lasciato veramente perplesso, parlando dal punto di vista di chi ha fatto il servizio militare, adesso lasciamo perdere le esperienze belliche che ognuno da queste esperienze porta il bagaglio di esperienze personali, impara le cose inerenti alla tipologia del lavoro che ha fatto nell'ambiente bellico, perché ci sono persone che hanno combattuto all'interno di fanteria, dei riparti di fanteria, di spiegati sul fronte, hanno fatto la guerra di posizionamento e hanno un tipo di esperienza. Poi ci sono persone che hanno fatto parte delle unità speciali, hanno combattuto nelle condizioni totalmente diverse e hanno un altro tipo di esperienza. Poi ci sono i militari che sono stati nell'artilleria, ci sono i carristi, l'aviazione, ci sono i servienti, insomma ognuno dalla guerra porta le proprie esperienze belliche, però ci sono i principi della strategia militare, ci sono le regole principali che qualsiasi persona che ha svolto il servizio militare, in qualsiasi paese dove esiste un esercito che ha un minimo di valore, ha una minima preparazione, loro le cose basiche le sanno. Dalle ultime video che arrivano dall'ambiente militare ucraino, dalla guerra, sapete in Ucraina ci sono molti militari che fanno dei video, anche i russi lo fanno, bisogna dire che questa guerra è molto mediatica, sui canali telegram non mancano i video girati sia dai militari ucraini che dai militari russi, che dimostrano la vita quotidiana, alcuni momenti dei combattimenti, diciamo le vittorie, le perdite, momenti di rammarico, momenti di gioia e anche raccontano come funziona la logistica, invitano le persone ad aiutare in qualche modo, bisogna dire che sia in Russia che in Ucraina molti militari fanno, condividono questi video, fanno questi video proprio per attirare l'attenzione delle persone che fanno le donazioni attraverso vari canali, vari social su internet e con questo aiutano alle forze che sostengono, aiutano con piccole donazioni oppure mandano al fronte qualcosa, insomma una attività che secondo me può essere utile per i militari sia di una parte che dell'altra, per questo non mancano i video della realtà bellica di questa guerra, se ad esempio sulla guerra cicena che ho visto io non c'è proprio quasi niente perché all'epoca era proibito addirittura di fare le foto e quei pochi militari che riuscivano a portare da questa guerra i materiali video, foto rischiavano veramente essere processati dal tribunale, qua noi ci troviamo di fronte a una totale libertà di usare i telefoni, di usare insomma le vari videoregistratori, camere GoPro e così via per raccontare e dimostrare alla società civile quello che succede sulla linea di fronte. Io guardando questi video che arrivano ultimamente a volte mi trovo di fronte a una convenzione che i militari dell'esercito ucraino, parecchi, non sono per niente preparati ma neanche al livello di base, quello che vedo io sono i ragazzi che sono stati motivati probabilmente da propaganda, sono stati, hanno passato magari un livello di veloce addestramento seguendo le specialistiche della Nato, seguendo i loro criteri della Nato, però quando io vedo come agiscono, quando io vedo come loro gestiscono anche la loro permanenza, l'organizzazione dei loro punti difesi, io capisco che nessuno le ha mai insegnato le basi della preparazione bellica. Così di recente ad esempio io ho visto il video che è diventato verale, io l'ho condiviso anche sul mio canale Telegram, io cari amici non condivido qua questi video, perdonatemi perché riguardo alle video di guerra, di azioni di guerra, YouTube ha delle regole abbastanza rigide, so che su alcuni canali questi video passano, sul mio canale già due volte ho tentato di pubblicare i materiali all'interno i video inerenti alla guerra e YouTube non me li ha fatti passare, mi li ha bloccati due volte, quindi io preferisco di non tentare la pazienza dei gestori di YouTube, hanno le loro regole e va bene, io seguo le loro regole, quindi chi vuole approfondire e capire dei quali video io parlo può iscriversi al mio canale Telegram, lì ci sono questi video, ci sono descrizioni. Insomma, uno di questi video che mi ha veramente stupito era video della famosa colonna dei Bradley, dei blindati cingolati Bradley, che si muovono verso le posizioni russe durante il fallito contrattacco dell'esercito ucraino nei primi giorni, si muovono, il primo blindato salta sulla mina. Una situazione abbastanza normale, non succede niente di grave, tutti i blindati del genere sono progettati per reggere l'esplosione su una mina anti uomo oppure su una mina anti carro, se mina anti uomo non li fa quasi niente, nel caso particolarmente grave può danneggiare un cingolo, ma non è detto neanche che lo danneggi, la mina anti carro può strappare il cingolo, può anche fare danni più grossi, se si tratta di una tipologia della mina, ad esempio con l'effetto accumulativo, ci sono vari tipi di mina anti carro. Diciamo che le mine anti carro più diffuse, quelle che usano i russi, loro danneggiano soprattutto i cingoli, danneggiano la parte di ruote del carro e impediscono al carro di andare avanti. C'è un regolamento, ci sono le modalità di comportamento in una tale situazione, qualsiasi compagnia motorizzata che svolge il proprio servizio nell'esercito di qualsiasi paese dove il governo investe almeno un piccolo tot di soldi per addestrare i propri militari, ma di solito funziona così, perché quando un governo decide mantenere un esercito investe i soldi per addestrare questo esercito, altrimenti esercito non serve, piuttosto si può prendere i mercenari, tanto chi se ne frega. Quindi qualsiasi esercito bene o male rispettato, almeno un paio di volte all'anno, fa delle esercitazioni, esercitazioni a livello di brigate, poi ogni giorno invece fanno addestramenti a livello di compagnie e lì cercano di perfezionare le loro strategie di riparto e chiunque vi potrà dire che ha fatto servizio nell'esercito di qualsiasi paese che per un riparto motorizzato saltare su una mina anticarro fa parte del lavoro, è una cosa normalissima che può capitare. Quindi ci sono i metodi di affrontare questa situazione, ci sono i comandanti che subito danno gli ordini, una compagnia ben addestrata, questa situazione la supera in due secondi senza gravi problemi, senza avere dei crisi di panico e così via. Ci sono anche modi di salvare il mezzo abbattuto, se il mezzo abbattuto non può essere riparato o salvato al momento si abbandona, se c'è il pericolo che questo mezzo viene conquistato o preso dal nemico, questo mezzo viene minato e fatto esplodere insieme con le munizioni che non possono essere ritirate. Insomma c'è tutta una serie di regolamenti di comportamento nel caso se uno dei blindati della colonna salta su una mina anti-uomo o anti-carro. Nel video della compagnia ucraina che salta su una mina anti-uomo, dove il primo blindato salta sulla mina anti-uomo, il primo Bradley, io ho visto un totale panico, un panico totale. La prima macchina esplosa, l'affanteria comincia a saltare fuori dalla macchina, corre nel campo, non si capisce dove, uno corre da una parte, l'altro corre dall'altro. Alcuni blindati escono fuori dalla fila, si girano, danno il dietro, danno la parte posteriore alla direzione dove c'è il nemico e cominciano a superare di fianco la colonna, cioè la cosa che non si fa. È una cosa totalmente fuori da qualsiasi strategia. Poi uno dei blindati, da dove tra l'altro veniva ripresa tutta questa scena atroce, allucinante, comandante di questo blindato ordina all'artigliere che sta nella torretta di tirare con cannone automatico, dando l'ordine, spara là da qualche parte. Io ho una cosa così, ma dalle le correttive, dalle un minimo, io capisco che sei in una situazione disagiata, probabilmente per te la prima battaglia, però tu non puoi dare a un artigliere dire spara là da qualche parte, almeno dirgli guarda a ore 11 dall'albero più alto, lì dove vedi c'è questa collinetta, spara lì tre colpi di seguito e poi due colpi a ore 10, insomma fai un programma, non lo so, in qualche maniera cerca di precisare i tuoi ordini, niente, caos totale, spara là da qualche parte, questo comincia a tirare all'impazzata, non si capisce dove, spara mentre gli altri blindati li passano davanti al cannone, una cosa allucinante, alla fine uno dei blindati che è stato, che si è girato con il proprio posteriore verso il nemico viene colpito da un razzo anticarro guidato, quindi prende fuoco, un panico totale, urla, grida, la gente corre, abbandonano le munizioni, abbandonano i feriti, questo comandante che prima dava questi ordini idioti al proprio artigliere, comincia a dare il comando ai fanti che si sono usciti dal blindato colpito di salire sul suo mezzo, sulla blindatura del suo mezzo e comincia a ritirarsi anche lui, un panico totale. Io quando ho guardato questa oscenità, ho pensato che se questi sono i riparti che sono stati preparati dai specialisti occidentali per la controfinsiva, cioè io comprendo perché questa controfinsiva non è andata a buon punto, a questa gente se l'Occidente dava anche i migliori cari al mondo, con una scarsa organizzazione e mancata preparazione militare come hanno dimostrato, ma non avrebbero potuto vincere in nessun modo, anche se a loro sarebbe stata fornita, non lo so, la stella di morte delle guerre stellari che con laser fa esplodere i pianeti. Pure con quella dalla loro parte non sarebbero stati in grado di combinare niente di utile. C'è il panico, incapacità di agire sotto il fuoco che è molto importante nell'esercito e lì si capisce che questa gente semplicemente non è stata abituata a lavorare sotto il fuoco. Quello che fanno in gran parte degli eserciti, io credo che anche in Italia lo fanno, in Russia da noi lo facevano, qualsiasi riparto di fanteria vi fanno lavorare e c'è sempre qualcuno che vi spara sopra la testa, che fa esplodere un po' di bombette attorno per farvi sentire un po' all'interno di una realtà stressante, di battaglia. Poi ovviamente niente paragonabile alla battaglia vera, però intanto avete una minima di preparazione. Qua io ho visto proprio la totale mancanza di preparazione, né quella morale né quella effettiva tecnica, perché a livello di strategia e di tecnica erano zero totale. Un insieme di persone mandati là sbandati, prima mina anticarro che beccano scappano via. Un altro video che ho esaminato e che mi ha messo veramente in stupore proprio, era il video recente ripreso da militari ucraini durante l'avvicinamento alle loro posizioni di un drone russo che si chiama Lanzet. Lanzet è un drone russo che ha un potere distruttivo simile a quello di un colpo di artilleria da 120, diciamo così, come un colpo di carro, forse anche di meno. Ecco, come un RPG più o meno, come il razzo di un RPG in grande linea. Però è molto preciso, ha una videocamera molto buona, quindi loro riescono a colpire gli oggetti abbastanza bene con questo drone Lanzet. I russi li usano tanti. I russi hanno evidenziato un cannone di produzione statunitense che si chiama M777, è un obice da campo, un obice trainante, che viene trainato da un mezzo, posizionato sul campo, fissato sul campo e poi da un punto fisso questo cannone spara. Per rimuoverlo bisogna trainarlo di nuovo da un'altra parte, con un mezzo. Questa è la differenza, ad esempio, tra gli obici fissi da campo e gli obici semoventi. Obici semoventi, ad esempio, sono come quelli che la Miloni ha mandato a Zelensky e la metà dei quali Zelensky li ha mandato indietro perché non funzionavano, che sono M109 italiani, che anche lì l'Italia ha fatto una figuraccia. Insomma, lasciamo stare senza commenti questa cosa. I russi cosa hanno fatto? Hanno evidenziato questo obice M777, hanno mandato un drone, il drone era in avvicinamento. Gli inservienti dell'obice, cioè la squadra di artiglieri che lavora con il lobice e anche una parte della fanteria che era disposta in quella zona, hanno visto l'avvicinamento di questo drone e hanno cercato di abbatterlo con i loro fucili. Ovviamente è difficile abbattere un drone in avvicinamento, bisogna essere proprio bravi. Loro hanno sparato tutti insieme, anche lì un panico, non c'è uno che comanda, gente che correva e cadeva per terra, un altro li passava sopra. Sembrava di guardare un film americano perché un disastro così c'è solo nei film americani dove sembra che l'azione di guerra è un casino. In realtà la guerra si fa delle persone che in situazioni che sembra caotica riescono a mantenere la calma, questo è il senso del servizio militare. Non correre come un rambo con la dinamita nel culo, perdonatemi l'espressione, ma stare seri, tranquilli, fermi, non farsi impressionare e svolgere il proprio lavoro in maniera sistematica e inerente al proprio addestramento. Questa è la guerra dei militari veri. Infatti questo riparto fa casino e io noto da subito un particolare che mi ha lasciato perplesso. Questo riparto si nasconde nelle trincee, che io prima non ho capito che sono trincee. Io ho pensato che loro erano lì, non so, in un buchetto scavato, non so cosa fosse. Quando io ho compreso che quelle sono le loro trincee, che dentro c'erano le casse, che hanno preparato questo luogo per, non so, per un combattimento, per nascondersi dall'artilleria del nemico, io ho capito che l'esercito ucraino si trova in grave difficoltà, perché le persone che hanno scavato quelle trincee non hanno mai avuto la possibilità di conoscere nemmeno nemmeno la parte iniziale del corso di preparazione di un semplice fante. Trincee che sono scavate da questi militari ucraini non corrispondono, cari amici, a nessun tipo di strategia e di tattica bellica che esistono al mondo. Hanno scavato una fossa di profonda, sarà stata profonda, mezzo metro, 50 centimetri, dove loro non stavano neanche a metà, senza preparazione di quello che si chiama bruce fair, cioè quella collinetta di terra che si mette sul ridosso della trincea e che serve per proteggere i militari dai colpi che arrivano dal nemico e delle schegge che arrivano dalle esplosioni, perché il militare deve sparare nel proprio settore e deve avere questa parte protetta e anche la testa deve essere protetta da questo bruce fair, loro non ce l'avevano. Ma anche se avessero con profondità così poca di trincea, loro non sarebbero stati in grado di nascondersi da questo bruce fair, perché non possono né sdraiarsi né stare in piedi né stare in ginocchio. Io ho guardato bene, ho fermato le immagini, ho riguardato questo video per capire questa trincea e cari amici è tutto una costruzione che va contro a qualsiasi regola bellica. Io ho capito che a questa gente nessuno ha mai spiegato come deve essere scavata la trincea di una squadra di fanteria. Intanto la trincea di una squadra fanteria non può essere così lineare come avevano loro, non si scava in linea una trincea. Trincea deve essere così, a onde oppure a mezzo cerchio oppure a zig zag così. Perché viene fatta trincea in questo modo? Perché quando arrivano i colpi di artilleria oppure le granate dei nemici e se un colpo c'entra la trincea, cioè entra dentro, c'è un'esplosione, partono le schegge e la sistema di curve della trincea evita che il colpo sparpagliando va a colpire tutti quelli che si trovano nella trincea, cioè gli angoli proteggono gli altri che stanno dietro, mentre sulla trincea che è in linea colpo esplode a metà su tutti i morti. C'è la trita carne in pratica. Poi le posizioni dei tiratori in qualsiasi trincea vanno in avanti sempre. C'è una linea principale che si chiama linea di passaggio. Nella linea di passaggio non deve essere niente, deve essere sempre libera. Poi ci sono le linee che avanzano dalla linea di passaggio, questi si chiamano punti di tiro, lì si posizionano tiratori, su una linea così possono stare fino a 3-4 tiratori, lì loro hanno gli angoletti per nascondere le loro munizioni, perché le munizioni devono essere nascosti nelle nicchie della trincea, non assolutamente sotto i piedi, sia per essere protetti dalle esplosioni, da probabili esplosioni, sia per evitare che la gente correndo, camminando, si inceppa, cade e si rompa il braccio. E poi deve essere una linea indietro, che va indietro, sempre a zigzag, che è una linea di ritiro, una linea che di solito usano i militari per arrivare alla trincea o per andare via dalla trincea, soprattutto quando la trincea si trova in prima linea. Comunque tutto quello che deve essere fatto per creare una trincea, una semplice trincea di squadra, cioè per 15 persone, non è complicata. Quando io ero militare, nelle nostre unità 15 persone scavavano questa trincea in tempo di due ore, non era difficile, ognuno sapeva cosa scavare, in che direzione farlo, si cominciava, si incontrava a metà e la trincea era pronta in due ore, e due ore era anche tanto, c'erano alcuni che la scavavano in un'ora, in meno tempo. Tutto a mano con la pala, senza grandi preparativi, senza grande macchine. Qua invece, quello che ho visto io, ho compreso che questa gente non ha mai stata neanche vicino a un serio addestramento militare, a un addestramento militare di base, intendo. È chiaro che le hanno presi, le hanno portati a Inghilterra o non so dove, le hanno insegnato come sparare con un fucile, le hanno insegnato, non so, una tattica di movimento in gruppo per non ammazzarsi tra di loro, ma di base di guerra necessari per svolgere le attività di guerra, loro non sanno, non conoscono. E questa è la mia impressione di ciò che sta accadendo in Ucraina adesso e del perché i riparti militari ucraini non riescono a sfondare le difese dell'esercito russo con qualità. Unica cosa che loro adesso possono fare è fare questi folli attacchi contro le posizioni russe, buttando grande quantità di persone e in pratica con la propria carne aprire dei varchi. Però è una strategia abbastanza, come dire, pericolosa perché si sacrificano tante persone e non si ottiene un risultato, perché se voi volete fare un'offensiva di qualità dovete andare nelle profondità delle retrovie del nemico, prendere 600 metri, un chilometro, tre chilometri e poi fermarsi nella guerra di posizionamento e dimostrare che non siete in grado neanche di scavare le trincee come Dio comanda. Questo ovviamente è un fallimento. Quindi carissimi, io sono rimasto abbastanza stupito da queste immagini, sono ancora di più stupito del fatto che molti finti esperti qua in Italia continuano a raccontare le bagianate sulla grande preparazione dell'esercito della NATO e dell'esercito ucraino. Da quello che vedo io preparazione proprio manca, quello che manca è la preparazione. Probabilmente loro sono motivati, per carità, probabilmente sono ben armati, non c'è dubbio, all'Occidente noi gli abbiamo dato un sacco di soldi, in effetti abbiamo sacrificato i nostri interessi economici pur di armare questa gente. Però a livello di preparazione sia dal punto di vista psicologico sia dal punto di vista di capacità strategiche io non vedo grandi, enormi, celsi risultati. Io vedo che la preparazione militare di base a loro manca, perché quando la fanteria non sa scavare per se stessa delle trincee che possano proteggere i soldati dal fuoco di artilleria e quando la gente dopo la prima esplosione di una mina anticarro comincia a fuggire ai gambe levate, urlare, presa dal panico, per me questo non è un esercito. Per me questo è un insieme di ragazzi che sono stati buttati in una situazione della quale non sanno niente e alla quale non sono stati preparati. Non è colpa loro, io assolutamente non dico che cattivi loro e così via, anzi, poveretti, hanno anche svolto quello che sarebbe stato il mestiere di altri. Però non bisogna aspettare da loro grandissimi risultati se mancano, manca la preparazione e le capacità belliche. Questa è la mia opinione. Io vi invito di commentare, di dire la vostra, come sempre sono molto interessato a leggere ed ascoltare i vostri commenti. Inoltre vi invito di iscrivervi al mio canale, di condividere il mio video con i vostri contatti. Vi ricordo che è uscito il mio nuovo libro che si chiama La guerra e l'odio. È il terzo libro della trilogia dedicata all'Ucraina, dedicato questo libro all'odio che ha diviso l'Ucraina e che ha portato la guerra in questo luogo. Vi invito ad approfondirlo. Grazie per essere stati qui con me, vi mando un forte abbraccio e vi voglio bene. Grazie.